Brutta sorpresa nella mattinata di oggi alla ripresa dell'attività scolastica dopo la pausa nel weekend per l'istituto comprensivo Achille Pace di Termoli. Nel plesso di via Volturno è stato infatti messo a segno un furto, portata via una lavagna multimediale interattiva nuovissima che era custodita all'interno di un laboratorio, costata circa 2000 euro. I ladri si sono intrufolati all'interno della scuola attraverso una delle porte, infrangendone i vetri. Poi si sono diretti quasi a colpo sicuro nella stanza di vita laboratorio per portare via la LIM. Sul posto, appena scoperto il furto con scasso, è intervenuta la volante del commissariato di polizia di Via Cina che ha compiuto i rilievi del caso.